Scusava a tutti, era solitente, parlava con tutti, non aveva... E il marito invece? No, no, come posso definirlo? Lo salutava, si disausava, però andava sempre con la testa giù, sai, quelle persone che... Però non so, non si parlava magari di altri litigi... No, 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 io queste cose qui non le ho mai... perché mi sono mai messo in mezzo alle altre cose. A lei la conosco, e la conosco il marito, la sua grande amica, la conosco da tanto tempo, siamo grandi amici, è tutto, però così fatto ho chiamato subito a lei stamattina. Quando ho passato qua ho visto questa cosa, la prima cosa che ho fatto ho chiamato a lei. E lei abita qui? Io abito alle case popolari. Secondo lei è una frase annunciata questa? Come so che mi hanno detto che avevo già avvertito questa cosa, sia al telefono, per l'aiuto donne, sia anche alla polizia e al carabinio sotto qui. Avevo già avvertito questa cosa, che il marito avevo già deciso di fare una cosa non c'era.